Lavoriamo insieme per combattere pandemia, cambiamento climatico e diritti umani. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha la 76esima Assemblea dell'ONU in corso a New York. Sul clima ha posto il suo accento il segretario generale ONU, Antonio Guterres. Il mondo non è mai stato così diviso e la natura devastata da una serie di eventi. Siamo sul loro dell'abisso, occorre svegliarsi. In una lettera, infine, i talebane hanno chiesto di intervenire. Prima rispettino le donne, il commento del ministro Di Maio. Prima rispettino le donne, il commento del ministro Di Maio.